Allora, questa sera partiamo con la sessione di moda, è molto simile alla sessione di ritratto, per cui chi scatta con i flash, 200 as di sensibilità, 125 di tempo, diaframma 5-6 da chiudere o da allargare all'occorrenza della macchina specialita in mano, come si comporta. In luce ambiente invece, ve lo ricordate? Bianco in automatico, ASA alzateli, non dico al massimo, alzateli fino a che riuscite a starci dentro per scattare a mano libera. Il diaframma aperto tutto, tempo dipende se avete l'ottica stabilizzata o no, loro più o meno stanno fermi, per cui se avete l'ottica stabilizzata anche un quarantesimo ci sta dentro, se no non scendete sotto il sessantesimo senza l'ottica stabilizzata. Diaframma apritelo tutto, bianco automatico. Ho fatto in modo di mettere le pilota al massimo della potenza, ho messo i due fareti, uno che punta al volto e uno che punta sul corpo, in modo che i modelli saranno illuminati in luce artificiale e non dovreste neanche avere problemi a starci dentro scattando in luce ambiente, senza andare su a 6400 ASA, compagnia bella, insomma. Più bassi riuscite a stare con la sensibilità, meno rumore c'è dentro. Se poi scattatevi, vedete che la foto vi viene mossa, allora alzate il tempo e aumentate la sensibilità. Com'è me? Com'è me? Com'è me? Com'è me? C'è la foto? Com'è me? Com'è? Com'è me? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.